Sono già molte le storie di aziende che hanno scelto di investire in sicurezza sul lavoro. Grazie al nuovo bando Easy, INAIL quest'anno mette a disposizione delle imprese 370 milioni di euro per migliorare salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Hai tempo fino al 30 maggio per compilare la tua domanda online. Vai su inail.it INAIL, la persona al centro del nostro impegno. Grazie a tutti.